Tekken Tag 2 Tekken Tag 2 Ti rifarai il prossimo torneo Lanciagli una sfida Ti batterò al prossimo torneo E io vi controllerò Andiamo qui a conoscere il primo classificato Campione assoluto di Tekken Tag 2 Eccolo Ciao io sono Paolo Vengo da Bologna Da qua dietro Ho avuto la fortuna di vincere oggi Forse come dico sempre io Non è fortuna ma Bravura Te lo sei meritato? Diciamo di sì Allora il secondo ti ha lanciato una sfida Ti ha detto che la prossima vincerà lui Che cosa gli rispondiamo? Che potrebbe vincere solo se lo lascio vincere Ah e quindi che da dire O lui o il secondo Andiamo a sfidarli E venite tutti voi Al nostro prossimo torneo di Tekken Tag 2 Ciao Ciao